Un operaio di 25 anni è morto questa mattina a Budoi, è investito da una lastra di metallo, il giovane era impiegato da una ditta esterna. La difesa di Paolo Calligaris, l'imprenditore accusato dell'omicidio di Tatiana Tulissi, ha richiesto il rito abbreviato. Gli organizzatori di Udine e GES hanno deciso di spostare la rassegna a grado, la regione ha confermato i contributi, ma Fontanini non ci sta. Più strutture private convenzionate con la sanità regionale per gestire le tante richieste, questo è uno degli aspetti della riforma sanitaria. Il bomber dell'Udinese ha riacquistato smalto e gamba, la lasagna ora potrebbe avere spazio con l'Italia che affronta la Finlandia. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento in diretta con l'informazione targata Udinews TV, buonasera anche a Nicola Angeli. Buonasera Valentina. In apertura la cronaca con l'ennesimo incidente sul lavoro, un operaio di 25 anni è morto oggi in un'azienda, in una carpenteria a Budoia dopo essere rimasto schiacciato da una lastra di acciaio. Vediamo. Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Budoia nell'area della ditta IM. A perdere la vita un giovane croato di 25 anni, Iurica Pinta, che viveva a Coltura di Polcenigo e lavorava per una cooperativa di Codroipo. L'operaio era impegnato a saldare una lamiera di 8 metri per cause in corso di accertamento, è stato schiacciato. I colleghi hanno immediatamente cercato di liberarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Sul posto è atterrata l'eleambulanza del 118 decollata da Campo Formido, che ha preso in carico l'operaio, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il macchinario è stato posto sotto sequestro e la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale civile di Pordenone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rito ha abbreviato la richiesta dei legali di Paolo Calligaris, presentata oggi nella seconda udienza preliminare per l'omicidio di Tatiana Tulissi. È una ferita sempre aperta, ha detto la mamma della donna all'uscita dall'aula. I legali di Paolo Calligaris, l'imprenditore frulano di 49 anni, chiamato a difendersi dall'accusa di omicidio della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 sull'uscio di casa a Manzano, hanno presentato oggi la richiesta di rito abbreviato. Un'istanza formalizzata nel corso della seconda udienza preliminare è celebrata nel primo pomeriggio davanti al GUP Andrea Odoardo Comez. Il giudice ha concesso alla procura un termine di 60 giorni per analizzare i documenti delle indagini difensive depositato dai legali di Calligaris, gli avvocati Rino Batocletti e Alessandro Gamberini. Entro quel termine la procura dovrà presentare eventuali contradduzioni. Il processo è stato aggiornato all'11 giugno, è stato quindi fissato un calendario delle prossime udienze, hanno spiegato all'uscita sia i legali della difesa che l'avvocato Laura Luzzato Guerrini delle parti civili, per poter arrivare eventualmente a una sentenza entro l'estate. In aula c'erano i familiari di Tatiana, la mamma Mary Conchione e i fratelli. Una ferita sempre aperta, ha detto la madre all'uscita dall'aula a 10 anni dall'omicidio della figlia. L'allora suo compagno era uscito dall'inchiesta con una archiviazione nel 2012 perché gli elementi a suo carico erano stati giudicati deboli dal GIP, erano cadute anche le accuse giudicate infondate per il figlio di lui, Giacomo, minorenne all'epoca dei fatti. Le indagini però erano continuate tra nuovi sopralluoghi e perquisizioni nella villa di Manzano, finché lo scorso ottobre, dopo aver messo a confronto le perizie effettuate dagli investigatori, la Procura ha chiesto nuovamente il rinvio a giudizio per Calligaris. È stata aggiornata al 10 di aprile l'apertura del procedimento nei confronti di Don Emanuele Rundite, il parroco di Maiano accusato di disturbo della quiete pubblica da alcuni residenti del comune per il suono troppo forte delle campane. La motivazione del rinvio comunicata oggi in aula alle parti è quella del legittimo impedimento del legale delle prete Massimo Cescutti, impegnato oggi in un altro processo a Treviso. Una questione è quella delle campane maianesi che sta animando il dibattito cittadino da diverso tempo, tanto da portare i fedeli a scendere in strada domenica scorsa per una manifestazione di solidarietà a Don Emanuele. I cambiamenti che la riforma sanitaria comporterà per i cittadini sono stati al centro di un convegno che FEDER Sanità Anci ha promosso a Palazzo d'Aronco. Tra le sfide che la regione si è posta, una delle maggiori è lo spostamento dei servizi al di fuori degli ospedali. Un modello organizzativo in grado di dare risposta adeguata ai cittadini a fronte della scarsità di medici, delle risorse bloccate e dell'allungamento dell'aspettativa di vita. Così la riforma sanitaria è stata presentata a Palazzo d'Aronco nel convegno riordino del sistema sanitario e politiche sociali in Friuli Venezia e Giulia. Cosa cambia per i cittadini? Il ritardo del sistema informativo e la mancata formazione della classe media manageriale all'interno delle aziende sono i due limiti più grandi, secondo il vice governatore Riccardo Riccardi, tanto da richiedere specifici investimenti. Un'altra sfida sarà lo spostamento dei servizi al di fuori degli ospedali. Cambierà, credo un po' alla volta, cambierà parecchio. Cambierà perché è evidente che la stessa riorganizzazione sanitaria, per come è stata concepita, porterà ovviamente anche i cittadini a nuove modalità di approccio. Ma cambierà perché secondo noi le risorse sono ormai, come dire, al top, difficilmente potranno essere aggiunte altre e quindi c'è la necessità di fare meglio possibile con le risorse che ci sono. Quello che paventiamo tutti è la carenza dei medici in ogni settore. Noi siamo evidentemente per chi si valorizza il pubblico laddove funziona e laddove può funzionare meglio, ma è evidente che il cittadino che ha bisogno di determinate risposte deve poter andare a prendere queste risposte laddove, come dire, il servizio viene offerto, anche se questo lo fa il privato. Però ovviamente parliamo di una regione che ha la più alta percentuale di pubblico in tutta Italia, quindi stiamo dicendo delle cose che sono veramente minimali rispetto al complesso della spesa sanitaria. Andiamo ora a Trieste, Nicola. Sì, perché a Trieste il passato è presente, si incrociano, Valentina, si intrecciano, perché oggi sono state aperte ufficialmente le celebrazioni per i 300 anni della nascita del Porto Franco. A chi in questi giorni ci vuole insegnare cosa dobbiamo fare, replichiamo con i fatti, con la storia e con la competenza, ringraziando per l'attenzione, ma rispondendo con fermezza che siamo capaci di agire nel rispetto delle leggi europee, italiane e del commercio internazionale, perché da almeno 300 anni sappiamo fare il nostro mestiere, ha detto il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, aprendo il convegno Trieste-Città-Porto, appunto organizzato in occasione del 300esimo anniversario del Porto Franco. Andiamo invece ora in montagna, perché oggi si è tenuto un incontro d'arta terme fra l'assessore Riccardo Riccardi e sindaci dei comuni colpiti dal maltempo. Il piano Zamberletti 2.0 entra nel vivo dell'operatività, perseguendo un percorso di attivazione di 260 interventi, che impegneranno nel 2019 i primi 104 milioni di euro per ripristinare i danni causati dal maltempo. L'unità operativa della protezione civile è pronta, domani mattina inizieranno i contatti con i comuni per far partire i cantieri. Un metodo che è figlio di una storia che questa regione ha alle spalle, che ha sempre dato grandi risultati, e noi speriamo che ulteriormente agevolando i comuni si possa riuscire a realizzare questa corsa contro il tempo che prevede entro il 30 settembre, circa 150 procedimenti per oltre 28 milioni di euro direttamente ai comuni. La spesa complessiva ne vale un centinaio di milioni, poi la partita riguarda le opere più complesse, che saranno in capo ai gestori delle reti idriche, a Friuli Venezia Giulia Strade, a Promoturismo, alla direzione dell'agricoltura, dell'ambiente e della protezione civile. Complessivamente ci sono circa 40-50 comuni, complessivamente abbiamo in capo circa 140 procedimenti, quindi un'operazione molto complessa. I procedimenti li lasciamo in capo ai comuni, la gestione attuativa con tutta la partita legata ai pagamenti resta in capo alla direzione della protezione civile. Questo per consentire ai sindaci di avere meno oneri possibili, concentrarli sull'attività progettuale e la realizzazione delle opere. Quindi di alcune opere si occuperà direttamente la protezione civile, ma in montagna c'è bisogno di un ente di area vasta. Così ha ribadito il presidente dell'Uti, Francesco Brollo, che ha voluto ribadire il concetto e il messaggio dedicato alla Giunta Fedriga. Ascoltiamo. È l'occasione per fare un po' il curriculum di questo ente dopo tre anni, un curriculum fatto di numeri, perché ci sono, è vero, i 3 milioni e 200 mila euro che sono stati dati ai comuni come contributi per degli interventi per investimenti nei comuni, ma soprattutto ci sono gli 11 milioni e anche lì 200 mila euro che l'Uti ha ottenuto per progetti sovracomunali. Uno per tutti, la ciclabila, che è evidente che non può essere solo un tema del comune stesso. E questi sono un po' i numeri, ma quello che ci sta a cuore è dimostrare che in questo territorio, nella carne in particolare, ma forse un po' in tutta la montagna, un ente sovracomunale che faccia servizi per i comuni e anche sviluppo per il territorio, è non solo utile ma necessario. Se facciamo la cartina al tornasole e togliamo l'ente, vedremo che tantissimi comuni sarebbero in difficoltà, sappiamo quali sono i problemi di personale, ad esempio. Un Uti che raggruppa 24 e 28 comuni carni, ci gestisce la polizia locale, il personale, le attività produttive, tanti servizi, questo è anche un messaggio indiretto alla regione che sta riformando gli enti locali. Qualcosa sul territorio deve rimanere di comprensoriale? Sì, certo. Un messaggio diretto, diciamolo pure. Sta adesso il legislatore, nella sua facoltà, decidere qual è la forma che deve dare al rinnovamento degli enti locali. Secondo noi, per la montagna, è un'opportunità avere un ente che riesca a fare un po' da chioccia da un lato, dare dei servizi migliori ai comuni, dare una mano e poi sono anche tutti interventi che ricarono sui territori. Faccio un esempio, c'è questo nome che si chiama SUAP, che è astruso, però significa sportello unico, attività produttive, rilascia tutte le autorizzazioni, fa le pratiche, dalla sagra di paese a quelle che sono attività commerciali, produttive, vere e proprie. Cose che i singoli comuni si trovano sempre più in difficoltà se non in impossibilità a svolgere. E questo è uno dei temi di ricadute concrete sul territorio. Quindi noi chiediamo alla regione che la si chiami come si vuole, probabilmente luti da orticaria a questa giunta regionale, ma in assoluta franchezza e collaborazione istituzionale. Troviamo qual è la forma, però la Carnia in particolare ha anche dei confini che sono stati prima quelli della comunità montana e ha una storia pluridecennale che dice che qui le cose si cerca di farle funzionare. Poi ovviamente è tutto immigliorabile, però questo è il messaggio che vogliamo lanciare. La sospensione di una licenza di un locale del centro, ma anche un uomo che aggrediva fisicamente la moglie. Sentiamo tutte le notizie di cronaca di giornata nei nostri flash. Un cittadino rumeno di 36 anni è stato arrestato dalla polizia ieri mattina con l'accusa di maltrattamenti e i danni della propria compagna a una donna moldava di 32 anni. L'uomo la aveva picchiata nella notte. Le volanti erano intervenute nell'appartamento della coppia intorno alle 3 dopo una chiamata di soccorso inviata da una vicina. Questa, con il volto arrossato, escoriazioni e ferite le mani, le labbre ad un orecchio, aveva riferito agli agenti di essere stata colpita dal compagno con calci e pugni, precisando che non si trattava della prima volta. La donna è stata portata in pronto soccorso. I maltrattamenti erano cominciati nell'autunno scorso. Due licenze di somministrazione di alimenti e bevande sospese nei giorni scorsi dal questore di Udine ai titolari di due bar cittadini, sorprese a vendere alcolici a minori anche con meno di 16 anni. Nel mirino il caffè a storia in piazza San Cristoforo a cui è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 8 giorni. Questa mattina analogo provvedimento per 7 giorni notificato al titolare dell'osteria La Di Maria in via all'Europa Unita il cui banconiere aveva dato alcolici a 4 studenti minorenni, 2 con meno di 16 anni. Dopo il drammatico incidente di Porpetto in cui ha perso la vita un giovane di 25 anni di Marano Lagunare nella notte si è verificata una nuova fuoriuscita autonoma sulla strada regionale 252 che ha coinvolto un motociclista. E' accaduto sulla Napoleonica l'altezza della rotonda che porta Morsano al tagliamento. Il biker è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 giunti anche con l'elisoccorso. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato all'ospedale di Udine le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. A seguito degli arresti disposti dalla procura di Trieste operati nella mattina del 15 marzo con l'esecuzione del sequestro del silos sabato 16 la polizia ha effettuato un ulteriore controllo all'interno della struttura rintracciando 14 cittadini stranieri. Di questi 5 erano già stati denunciati il giorno precedente per occupazione abusiva mentre 7 compreso un nucleo familiare sono risultati irregolari sul territorio nazionale. All'interno di una delle baracche già perquisite in precedenza sono state scoperte altre 4 dosi di cocaina e 10 bustine di marijuana il tutto sottoposto a sequestro. Continui a Bai da un'abitazione senza mai vedere il proprietario del cane i vicini preoccupati per le sorti dell'uomo si sono rivolti al 112 sul posto sono giunti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno abbattuto la porta dell'abitazione senza però trovare all'interno nessuna traccia del proprietario c'era solo il cane abbandonato da diversi giorni le forze dell'ordine hanno quindi rintracciato il proprietario chiedendo spiegazioni. Torniamo a parlare di cronaca e andiamo sul web Nicola Sì Valentina andiamo a Cividale del Friuli all'ospedale per la precisione perché tre sonde ecografiche per un valore complessivo di circa 9.000 euro sono state rubate nei giorni scorsi all'interno del nosocomio ducale il furto delle perecchiature è stato scoperto stamani da una dipendente che ha allertato i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli e se ci spostiamo invece un po' più verso est andiamo a Trieste è stata rigettata oggi la richiesta di risarcimento presentata da ben 222 soci per omessa vigilanza e controllo da parte della regione Friuli-Venezia giorni nei confronti di cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli lo ha stabilito il Tribunale di Trieste che ha considerato i controlli svolti dall'amministrazione regionale sulla mutualità e sullo stato patrimoniale delle cop conformi alla legge e adesso ritorniamo a Udine perché oggi c'è stata come di consueto la riunione della giunta comunale che ha reso note le decisioni prese dal governo del sindaco Fontanini che non ha risparmiato un attacco frontale alla regione per aver confermato i contributi a Udine e GES una manifestazione che per volontà degli organizzatori è stata trasferita a grado ascoltiamo un avanzo consistente perché sono più di 7 milioni di euro gran parte andrà a finanziare le opere pubbliche senza quindi ricorrere al mercato a fare debiti noi utilizzeremo questi soldi per non fare mutui e quindi utilizzarli direttamente questo comporta ancora un abbassamento dell'indebitamento del comune e soprattutto ci darà la possibilità anche di risparmiare sugli interessi passivi altra iniziativa riguarderà un'area a sgambamento cani nel Pepest Sì, sappiamo che in città ci sono moltissime famiglie che hanno dei cani i cani hanno bisogno anche di fare qualche bella corsetta e noi abbiamo individuato nella zona del Pepest dove mancava ci sono gli spazi e dobbiamo ricintare quindi un'area abbastanza grande per permettere in pratica ai cani di correre liberamente e di fare qualche bella corsa in questa parte del territorio della città Chiudiamo con una polemica che ha voluto sollevare quest'oggi quella legata a Udine Jazz che ha preso la rotta di grado in città voi avevate già proposto una contromisura ma la Regione ha deciso di continuare a finanziare loro Sì, questo è molto strano che la Regione continui a finanziare questa iniziativa anche perché ha abbandonato la città di Udine avevano fatto domande avevano ricevuto un contributo triennale però con la condizione che facessero qui a Udine hanno deciso di lasciare Udine per motivi loro noi abbiamo fatto un'altra domanda noi abbiamo chiesto tramite un grande professionista proprio nel settore Jazz di avere un contributo della Regione la nostra domanda non è stata finanziata mentre il signore che prima faceva questi concerti ha abbandonato Udine in ogni caso al di là dei fondi della Regione noi la stagione estiva della musica Jazz la faremo qui in città abbiamo dei validi professionisti che arriveranno da tutto il mondo a suonare a Udine e quindi penso che non mancheranno per gli appassionati occasioni per venire ad ascoltare buona musica qui a Udine Vedremo se ci saranno delle risposte da parte degli organizzatori al Sindaco Fontanini continuiamo però a parlare delle decisioni prese dalla Giunta Sì, parliamo di due misure a favore degli studenti di elementari e scuole medie la prima riguarda l'acquisto di materiale didattico deriva dall'ascito testamentario Fior Benvenuto Elia prevede un fondo di 100.000 euro valevoli per l'anno scolastico 2019-2020 quindi il prossimo diviso fra le primarie e secondarie di primo grado la seconda misura invece è riservata alle scuole medie ed è riferita all'acquisto di testi scolastici per un totale di 16.500 euro a disposizione Abbiamo sentito il Sindaco prendersela con la Regione per i fondi sulla cultura ma sono aumentate a 12 milioni le risorse stanziate dalla Regione per i bandi e la percentuale di accoglimento delle richieste rimane in linea con gli anni precedenti per il caso Leonardo a Gradisca già recuperati i soldi necessari per coprire il progetto dell'amministrazione per il futuro però l'assessore Gibelli ha messo in guardia i furbi non faranno strada scopriamo perché a fronte di richieste che erano nel 2017 di 8 milioni erotti nel 2018 di 10 milioni erotti quest'anno di 12 milioni erotti noi abbiamo la stessa percentuale di soddisfacimento delle richieste del 47% che c'era nel 2017 nel 2018 era leggermente superiore quindi mi sembra che siano dati oggettivi e non cercare di rispondere ma rispondere con i numeri che dicono qual è la realtà Lei è anche stata tagliente nei suoi giudizi ci sono stati alcuni che hanno cercato un po' tra virgolette di fare i furbi Sì, fare i furbi è sempre un boomerang perché può capitarti che qualcuno non se ne accorga ma quando ci se ne accorge poi se ne pagano le conseguenze Questo vi sta portando anche a ripensare in chiave futura a una revisione della normativa aggiungere qualche clausola in più e meno? Sì, sì, sì questo certamente sì e poi bisognerà risolvere io spero che avremo l'ente intermedio entro l'anno perché in realtà il dispiacere che io ho che sui bandi soprattutto sul bando eventi sono i soggetti piccoli che vengono esclusi perché sono costretti non essendoci più i bandi ex province sono costretti a concorrere a competere con i soggetti più importanti che ovviamente hanno la possibilità di costruire progetti più grossi più strutturati, più completi quindi quando si fa una valutazione si può anche essere indulgenti verso il soggetto più piccolo ma la disparità è evidente non deve più succedere questo bisogna ripristinare un sistema per il quale per i piccoli eventi locali sia l'ente intermedio che con un'evoluzione di parte dei denari da parte della regione evidentemente però che fa il suo lavoro un ultimo flash il capitolo Leonardo Gradisca Gradisca è come voi potete vedere credo già da oggi online comunque l'abbiamo deliberato in giunta con il primissimo scorrimento fatto solo con risorse proprie dell'assessorato non escludo che possano esserci altri denari in disponibilità nel momento dell'assestamento non escludo anzi io auspico che ci saranno e spero che ci saranno e ce ne saranno anche molti altri Apriamo la nostra pagina dedicata allo sport come ogni lunedì con le anticipazioni rispetto alla trasmissione di questa sera Udinese Tonight Buonasera Giorgia Bortolossi Ciao Valentina ciao Nicola inutile negarle un altro lunedì difficile non tanto per la sconfitta perché a Napoli ci può stare non tanto per la prestazione perché è stata di sicuro dignitosa ma per la situazione in classifica visto che hanno vinto tutte le dirette concorrenti che l'Udinese ora si ritrova lì a un punto solo che la separa dal terz'ultimo posto occupato dal Bologna e allora che si deve fare? Bisogna sfruttare questa sosta di campionato per provare a rimettersi a posto in vista di quello che sarà davvero un rush finale si ripartirà con due turni infrasettimanali con delle sfide dirette da giocare alla Dacia Arena che sono di vitale importanza e allora bisogna sfruttare questi giorni queste settimane per recuperare chi si può recuperare e per soprattutto mentalizzarsi verso quello che sarà un finale di stagione davvero importante incandescente di questo parleremo con degli esperti di insomma di guerra in campo possiamo dire così perché tante battaglie ne hanno fatte sia lo storico capitano dell'Udinese Alessandro Calori che sarà con noi in diretta in studio questa sera e sia un giocatore che da poco è tornato a Udine ma che abbiamo apprezzato in passato proprio per questo spirito guerriero che è Emil Alfredson li avremo insieme in studio per parlare proprio di questo finale di stagione e poi che cosa possiamo fare in questa sosta di campionato possiamo respirare un po' di entusiasmo azzurro perché a lei valla nazionale tra l'altro c'è stata davvero un'impennata delle prevendite ci sarà una Dacia Arena davvero piena sabato sera per accogliere la sfida tra gli azzurri di Mancini e la Finlandia c'è Kevin Lasagna che pare rigenerato dai due ultimi gol e allora proviamo a respirare anche questo entusiasmo di questo parleremo saremo collegati come sempre con Milano dalla redazione di Sport Italia con Michele Criscitiello e vi aspettiamo all'eventuno Grazie, grazie George allora dimmo uno sguardo ai biglietti in prevendita per la partita di sabato sera Nicola Sì, ci sono un sacco di offerte dedicate proprio ai tifosi bianconeri un sacco di riduzioni vediamo qui sul sito del Udinese Calcio direttamente tutti i prezzi con l'indicazione delle riduzioni vedete per esempio tribuna laterale ridotto 30 euro poi per gli under 12 costa ancora di meno i distinti ridotti 25 e via dicendo andiamo a vedere a chi sono dedicate le riduzioni abbiamo donne ragazzi fino ai 18 anni nati dopo il 23 marzo 2001 over 65 non ne facciamo ancora parte Valentina ai possessori della Fidelity Card Udinese Way e Udinese My Passion quindi per forza di cose molti o quasi tutti gli abbonati dell'Udinese poi i biglietti ridotti under 12 sono riservati ovviamente ai bambini fino a 12 anni e poi altre promozioni per i titolari della Card Vivo Azzurro che è valida per tutte le partite della selezione nazionale italiana di calcio e prenota proprio un posto da protagonista sabato sera Kevin Lasagna dopo i due gol rifilati a Juve e Napoli due gol consecutivi per riprendersi da protagonista l'Udinese e l'Azzurro pur non portando punti le marcature messe a segno da Lasagna hanno restituito la sensazione che Kevin abbia finalmente raggiunto lo smalto e la gamba dei giorni migliori dopo una serie di infortuni tanto fastidiosi quanto sfortunati l'attaccante ha ritrovato continuità di forma non solo nel timbrare il cartellino ma anche nelle accelerazioni che lo rendono una pedina preziosa per i bianconeri di Davide Nicola ma anche apprezzata da Roberto Mancini alla Dacia Arena Lasagna ci tornerà così tinto d'azzurro un orgoglio doppio in una stagione che fino a qui lo ha visto esultare più volte lontano da Udine quattro e appena una di fronte al suo pubblico sognare di calcare il proprio palcoscenico con la maglia della nazionale non costa nulla e i gol contro le prime due del campionato Juventus e Napoli sono un biglietto da visita più che intrigante il commissario tecnico d'altronde ha dimostrato di apprezzarlo a tal punto da preferirlo a marcatori ben più prolifici in questo campionato in un'ottica di costruzione del gruppo dove Kevin sembra aver scalato gerarchie ne è una chiara riprova anche la presenza costante nelle ultime convocazioni ma pure il crescente impiego l'esordio da subentrato con chiamata l'ultimo respiro e i dieci minuti più recupero nel debutto con assist in Polonia poi il quarto d'ora finale nella gara di chiusura di Nations League contro il Portogallo e l'ultima sfida lo scorso 20 novembre a Genk in cui Lasagna ha vestito per la prima volta i panni del titolare di fronte agli Stati Uniti l'aspetto psicologico e motivazionale di conoscere ogni singolo centimetro dello stadio da dove comincia il cammino di qualificazione ai prossimi europei e le due realizzazioni marcate a ridosso della Finlandia basteranno per convincere il CT Mancini scioglierà il dubbio sabato ma intanto l'udinese confida che Kevin possa giovare di energie positive per ritrovarlo ancora più carico per l'importante scontro del prossimo 30 marzo contro il Genoa ancora una buona notizia che ci arriva dal nuoto questa volta il classe 2002 di Villa Santina Dinan Bonaguro tesserato con la società nuoto gemonese si è imposto nei 200 misti juniores al criterio nazionale giovanili di Riccione di fatto gli italiani giovanili una gara condotta in testa dall'inizio alla fine al comando sin dalla prima vasca è vittorioso in 1,59 e 33 Bonaguro lo scorso anno aveva dominato nella categoria ragazzi il salto di categoria non ha compromesso i suoi risultati ora per lui l'avventura continua agli italiani assoluti nel programma dal 2 al 6 aprile sempre a Riccione e adesso diamo uno sguardo alle notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo prima cominciamo con la notizia sul web Nicola sì l'annuncio dell'Isis è arrivato in relazione a Lorenzo Orsetti che era un volontario combatteva assieme ai kurdi ed è stato ucciso dalle milizie appunto di Daesh dello Stato Islamico il volontario combatteva nell'assalto alla rocaforte di Baguz la lettera a testamento che ha lasciato ha scritto se leggete questo me ne sono andato con il sorriso sulle labbra c'è una dichiarazione del padre anche che dice che è morto insieme a tutti quelli del suo gruppo in un contrattacco di Daesh siamo orgogliosi di lui ha dichiarato il genitore e adesso ancora le notizie dall'Italia e dall'estero con Anza News crollano gli sbarchi dei migranti in Italia e il calo raggiunge il 94% nei primi tre mesi dell'anno dal primo gennaio al 15 marzo sono stati 335 gli arrivi sulle nostre coste mentre nello stesso periodo dello scorso anno si era raggiunta la cifra di 5945 e il quadro che emerge dalle statistiche rese note dal Viminale che riguardano anche i rimpatri dall'inizio dell'anno fino al 13 marzo sono stati 1.354 di cui 1.248 forzati e 106 volontari assistiti numeri che indicano che le espulsioni sono pari a quattro volte gli arrivi 335 sbarcati 1.354 espulsi un solo cadavere recuperato in questo 2019 i dati confermano che passiamo dalle parole ai fatti ha commentato il ministro dell'interno Matteo Salvini che già qualche giorno fa aveva anticipato queste cifre durante il question time ben 538 milioni di euro cioè 29 in più di quanto previsto e 70 oltre gli incassi del 2017 è un vero tesoro quello incassato in Italia nell'anno appena trascorso grazie all'imposta di soggiorno secondo i calcoli dell'osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno della società di consulenza turistica JFC questo fenomeno spiega Massimo Ferruzzi amministratore unico di JFC si deve sia ai 155 comuni che hanno introdotto l'imposta nel 2018 sia all'aumento delle tariffe ha portato da diverse amministrazioni locali circa dal 16% per quanto riguarda l'incremento tariffario la media è stata pari al 29,7% naturalmente facendo riferimenti ai solo comuni che hanno variato l'imposta un israeliano è morto e altri due sono rimasti feriti in un attentato in Cisgiordania non lontano da Nablus un palestinese ha accoltellato un soldato gli ha rubato l'arma e poi prima di darsi alla fuga con un'auto ha sparato ai civili sul posto Hamas ha parlato di azione eroica Nelle prime 24 ore dall'attacco alle moschee in Nuova Zelanda Facebook ha rimosso un milione e mezzo di video dell'azione rilanciati nel mondo lo fa sapere il social di Zuckerberg dopo le polemiche per non aver fermato subito la diretta streaming pubblicata dall'attentatore e con questo ci fermiamo grazie Nicolangeli grazie Valentina grazie a voi per averci seguito l'informazione ritorna alle 22.30 buona serata con Ud News TV